Benvenuti al vostro oroscopo quotidiano per il 22 agosto. Oggi esploreremo ciò che le stelle hanno in serbo per voi, offrendovi consigli e previsioni per affrontare la giornata con fiducia e positività. Segno Ariete. L'oroscopo del 22 agosto vi invita a essere più intraprendenti, specialmente in campo sentimentale. Non nascondete ciò che provate. Esprimere i vostri sentimenti, seppur con cautela, vi aiuterà a costruire relazioni più sincere e appaganti. Fioriranno progetti sempre nuovi e originali, ricchi di possibilità di guadagno. L'originalità sarà alla base della vostra giornata nel suo complesso, soprattutto all'interno del contesto di lavoro. Risparmiare sarà sempre più facile per le vostre tasche. Nella coppia non ci saranno segreti. La complicità sarà a dir poco alle stelle e la voglia di stare insieme sarà supportata anche dal quadro complessivo a livello familiare. La passione arriverà come una folata di aria fresca. Le illusioni potrebbero caratterizzare la giornata. Le incomprensioni con il partner potrebbero compromettere il rapporto, rendendo necessario un periodo di riflessione su voi stessi e sulle vostre relazioni. Una decisione importante potrebbe essere imminente. Segno Toro. L'oroscopo di giovedì segnala un forte sviluppo di carattere finanziario. Sistemerete molte questioni di carattere burocratiche che si sono trascinate a lungo nel corso di questo mese. Avrete delle scelte lavorative piuttosto semplici da da fare, molte anche decisamente redditizie. In questa giornata è essenziale che vi mostriate più coinvolti nelle decisioni che riguardano il lavoro e il vostro futuro. L'oroscopo vi consiglia di non tirare troppo la corda in amore. Equilibrio e comprensione saranno fondamentali per mantenere l'armonia nella coppia. Sarete felici delle decisioni in amore. La grande affinità di coppia sarà estremamente preziosa e anche matura, senza risultare affatto pesante. Gli incontri fortunati caratterizzeranno la giornata, offrendovi l'opportunità di conoscere qualcuno capace di toccare il vostro cuore. Per chi è già in coppia, l'intesa migliorerà, grazie a gesti inaspettati che rafforzeranno il legame. Le stelle favoriscono soprattutto l'amore, i nuovi incontri e le amicizie. È ormai tempo di lasciarsi alle spalle le difficoltà dei problemi passati negli ultimi mesi e aprirvi a una nuova frequentazione. Anche chi si è separato da poco sarà pronto per cambiare pagina. Segno gemelli. Secondo l'oroscopo della fortuna, gli astri vi prometteranno sorprese davvero inaspettate sul piano finanziario. Le energie che riuscirete a sprigionare saranno all'altezza anche della sfida più difficile con cui potreste avere a che fare. Se di recente avete affrontato dei contrattempi sul lavoro, ora è il momento di recuperare. La cosa più importante è la capacità di rialzarsi dopo una caduta, imparando dalle difficoltà per riprendere il cammino con rinnovata determinazione. Potreste avere delle piccole avventure che però soltanto in parte potranno convertirsi in storie d'amore. La cura della persona amata sarà sempre più evidente, ma la passione troverà una discesa abbastanza significativa. La vostra innata dolcezza emergerà con forza, rendendo ogni gesto verso il partner un atto d'amore sincero. Potreste realizzare un sogno che coltivate da tempo, dimostrando maggiore maturità e responsabilità nel rapporto. Luna in pesci. Inquadratura al vostro cielo. Tenete lontano da voi situazioni stressanti e persone pesanti. Serve un po' di relax in questa giornata. Se si avverte un po' di stanchezza, riposa di più evitando di fare troppo tardi la sera. Segno cancro. Risvegliare le vostre capacità professionali dopo un periodo non esattamente congeniale alle questioni lavorative sarà difficile per le vostre sole forze. La squadra saprà traghettarvi meglio in una immersione più completa nei vostri impegni. Lasciatevi trasportare dalla passione. Questo è il momento di essere audaci e di non lasciare che la timidezza freni i vostri desideri. Sul lavoro la vostra determinazione potrebbe portarvi a concludere affari importanti e a ottenere il riconoscimento che meritate. Le stelle segnalano un po' di insicurezza in amore e nei sentimenti in generale. Provare a prendere coraggio e dichiarare il vostro amore una volta per tutte però potrebbe essere estremamente semplice. La giornata sarà contraddistinta da un'atmosfera di romanticismo e vivacità. In amore, il vostro spirito frizzante e la gentilezza renderanno il rapporto con il partner e gli amici particolarmente piacevole. Potreste anche iniziare a pianificare progetti concreti con la persona amata coinvolgendo magari la famiglia. Segno leone. Si presenterà una giornata piuttosto instabile dal punto di vista professionale. La vostra attenzione nei confronti delle mansioni non sarà all'altezza delle aspettative. Spesso e volentieri avrete bisogno di aiuto e consulenze dalla squadra professionale. In amore è il momento di prendere una decisione. Se vi trovate in una situazione ambigua o con più opzioni aperte, è tempo di fare una scelta chiara. Continuare a procrastinare potrebbe portare a complicazioni non necessarie. Concentratevi sui vostri progetti e sul lavoro, perché grandi soddisfazioni sono all'orizzonte. Tuttavia, nei rapporti di coppia, è consigliabile non essere troppo esigenti. A volte saper accontentarsi può essere la chiave per una vita più serena e felice. Riuscirete a concretizzare un'infatuazione che avete tenuto nascosta a lungo. Confessare il vostro amore richiederà però una buona dose di coraggio. Non sarete disposti a scendere a compromessi, soprattutto in ambito familiare. Qualche segreto che desiderate mantenere potrebbe mettere alla prova la sincerità del vostro rapporto con i vostri cari. Segno vergine. Ottimi affari. Avrete la possibilità di trovare un lavoro che soddisfi le vostre esigenze e allo stesso tempo di fare affari che potrebbero fornirvi nuove risorse per vivere il presente e preparare al meglio il vostro futuro. Concentratevi sui vostri progetti e sul lavoro, perché grandi soddisfazioni sono all'orizzonte. Tuttavia, nei rapporti di coppia, è consigliabile non essere troppo esigenti. A volte saper accontentarsi può essere la chiave per una vita più serena e felice. Avrete un amore verso voi stessi e gli altri che si bilancerà perfettamente nel corso della giornata di giovedì. Un nuovo entusiasmo di coppia sarà alla base per una serata densa di emozioni. In famiglia non mancheranno serenità e affinità con le persone amate. La giornata sarà segnata da qualche dubbio in amore o nei rapporti di amicizia più significativi. L'oroscopo consiglia di rivalutare le relazioni all'interno del contesto familiare, cercando di capire cosa davvero conta per voi. Dovete imparare a farvi scivolare le cose addosso. Questa è l'indicazione delle stelle. La luna contraria potrebbe causare un imprevisto irritante, un ritardo o la provocazione di una cattiva persona che dovete ignorare. Segno bilancia. Vi avvantaggerete di una nuova spinta progettuale che potrebbe essere molto prolifica per i vostri guadagni. Comincerete a concretizzare nuove idee e a incentivare anche la collaborazione di gruppo, anche se per alcuni di voi sarà alquanto danneggiata. Le opportunità si presentano quotidianamente e dovreste approfittarne senza esitare. In ambito professionale il vostro contributo potrebbe avere un impatto significativo, quindi fate attenzione a ogni parola e azione nei prossimi giorni. Ci saranno delle illusioni sul piano amoroso. Non troverete soluzioni adeguate se state vivendo un periodo di crisi nella coppia. Avrete bisogno di rilassare la mente e di prendere una decisione positiva per voi stessi. I vostri progetti di coppia potrebbero evolversi verso una convivenza o addirittura un matrimonio. Questo nuovo capitolo vi regalerà sorprese straordinarie e una crescita personale significativa. Le stelle vi incoraggiano a non trascurare il vostro corpo. Molti di voi soffrono di alcuni problemi fisici, ma adesso avete l'opportunità di tornare in buona forma. Tutto quello che dovete fare è riposarvi un po' e adottare un regime alimentare più sano. Segno Scorpione. Avrete una posizione difficile che non prevede distrazioni. Il lavoro si intensificherà ma demordere non rientrerà negli obiettivi di questa giornata. Secondo l'oroscopo la fortuna vi farà risparmiare qualcosa. Le stelle vi suggeriscono di ottimizzare il vostro tempo. Siete spesso coinvolti in mille impegni, ma è essenziale imparare a gestire le vostre energie in modo più efficace per evitare confusione e stress. Delle piccole pressioni molto probabilmente a lungo andare non vi staranno bene. Avete una visione molto libera dell'amore. Di conseguenza al momento non sarete pronti per dei passi in avanti. Per alcuni ci sarà un po' di incertezza. La passione sarà vivace e intensa, spingendovi a vivere esperienze uniche con la persona amata. Contemporaneamente, sentirete il desiderio di assumervi maggiori responsabilità, preparandovi a fare un passo importante nella relazione. Sarà un giorno molto propizio per l'amore, l'attaccamento familiare e i nuovi incontri. I single possono uscire dalla loro zona comfort e incontrare nuove persone. Forse, nelle prossime ore incontrerete qualcuno che lascerà il segno. Segno sagittario. Fate qualcosa per salvare i vostri risparmi sarà un gesto che potrebbe essere determinante per le finanze ancora a galla. Attenzione alla scarsità di idee di carattere professionale. Secondo l'astrologia, sarà meglio prendersi una pausa. Le stelle favoriscono le avventure amorose, ma se cercate stabilità, dovrete pazientare un po'. Sul lavoro, non è il momento di temporeggiare. Cogliete al volo le opportunità che si presentano per avanzare nei vostri progetti. Avrete voglia di fare un viaggio con la persona amata per poterla conoscere, ma soprattutto per esplorare nuove vie dettate dal vostro sentimento. Non tutti i singoli in questo momento avranno voglia di iniziare una nuova storia. Potreste scoprire dettagli della vostra relazione che complicheranno le cose. Le incomprensioni con il partner saranno difficili da risolvere e, sebbene cercherete di evitare conflitti, la giornata potrebbe risultare piuttosto impegnativa. La luna non sarà in aspetto armonico. Con il passare delle ore potrebbe avvertire debolezza fisica o trovarvi davanti a un imprevisto, ostacolo o ritardo. Fate attenzione e rimandare la discussione nei giorni seguenti. Segno capricorno. Alti e bassi. Sul lavoro sarete sobbarcati di impegni vari e non sempre riuscirete a fare i conti con le difficoltà che sta incontrando la vostra carriera. Per il momento, d'altro canto, non potrete fare mosse che possano essere anche solo minimamente controproducenti per la vostra posizione. L'oroscopo del 22 agosto vi sprona a impegnarvi seriamente in amore. Questo è un periodo straordinariamente favorevole sia dal punto di vista sentimentale che economico. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di avanzare nei vostri progetti e di rafforzare i legami con chi amate. Probabilmente avrete delle perplessità con le persone care. Troverete sempre e comunque dei punti di sostegno utili per conversare e risolvere eventuali problematiche, soprattutto nella coppia. Le esperienze condivise con il partner vi porteranno a riflettere su decisioni importanti. Il vostro segno attraverserà un periodo di grande responsabilità, bilanciato da momenti di dolcezza e affetto familiare. Segno acquario. Secondo l'oroscopo, purtroppo non darete il meglio di voi stessi. La ragione sarà da ricercare in una stanchezza che si è protratta piuttosto a lungo. Ristabilire le vostre priorità sarà doveroso per ritornare ad avere un ritmo lavorativo meno stressante. Sebbene siate soliti programmare il futuro con precisione, a volte vivere alla giornata può riservare piacevoli sorprese. Ottima intesa con i segni d'acqua. Approfittate di questo periodo per stringere legami più profondi e significativi. Gli stimoli che avrete nel corso di questa giornata saranno densi di un appassionato romanticismo, ma anche di un senso di responsabilità davvero marcato, a dir poco eccellente. Per i single gli incontri saranno emozionanti e appaganti. La fortuna in amore vi renderà più propensi all'innamoramento e a rinnovare la fiducia nelle persone. Potreste anche trovare la forza di chiudere un'amicizia che ormai ha esaurito il suo significato, facendo spazio a nuove esperienze. Le stelle vi faciliteranno la vita pratica. Ne trarranno beneficio le persone nate sotto questo segno e coinvolte in trattative come la vendita di beni immobili. Se trovate un immobile che vi piace, valutate l'opportunità di approfittare di questa giornata per fare un'offerta. Segno pesci. Secondo l'oroscopo, avrete nuove energie da utilizzare sul lavoro. Determinazione e capacità di interagire con nuove figure professionali saranno le chiavi che vi consentiranno di fare salti di qualità rilevanti. Sarete in grado di accettare consigli. La pazienza sarà la vostra arma segreta in questo periodo. Non lasciatevi scoraggiare dagli errori che potrebbero capitare. Siate indulgenti con voi stessi e ricordate che ogni sbaglio è un'opportunità per crescere e migliorarsi. Sentir parlare d'amore in questo momento non vi farà quasi alcun effetto, specialmente se siete single. Nella coppia invece troverete molta insoddisfazione e una noia crescente. Sarà il momento di risvegliare qualcosa di sopito. Le esperienze condivise con il partner vi porteranno a riflettere su decisioni importanti. Il vostro segno attraverserà un periodo di grande responsabilità, bilanciato da momenti di dolcezza e affetto familiare. La luna sarà nel vostro segno. L'amore è tornato di moda. In questa giornata potreste fare un incontro che vi ispirerà. Se vi piace qualcuno da un po', potete uscire allo scoperto ed esprimere i vostri sentimenti.